Video lezione di scienze, biologia dei viventi, apparato digerente, concetti chiave, alimentazione, assunzione di cibo, nutrienti, elementi necessari al corpo, dieta, assunzione equilibrata di cibi, digestione, trasformazione e assimilazione, succhi, sostanze per la trasformazione chimica, feci, scarto espulso dal corpo. Nella vita tutto consiste nel poter digerire bene, così l'artista trova l'ispirazione, i giovanotti la voglia d'amare, i pensatori le idee luminose e tutti quanti la gioia di stare al mondo. Guide mot passant. I principi nutritivi. I principi nutritivi sono necessari in quantità equilibrate per rispondere alle esigenze del nostro corpo, si suddividono in sostanze organiche e inorganiche. Sostanze organiche sono le proteine con funzione plastica e mattoni per il nostro corpo, si trovano in uova, carne, pesce, latte, legumi. I carboidrati o zuccheri hanno funzione energetica, quindi la legna per generare energia per il nostro corpo, si trovano in pane, pasta, cereali, zucchero, dolci. I lipidi o grassi hanno funzione energetica, legna e plastica, mattoni, si trovano in olio, burro, salumi. Le vitamine hanno funzione regolatrice e protettiva, si trovano in ortaggi e frutta. Sono sostanze inorganiche, i sali minerali, funzione regolatrice e plastica, si trovano in ortaggi e frutta, e l'acqua, funzione regolatrice, in quasi tutti gli alimenti. I sei tipi di principi nutritivi hanno quindi quattro funzioni che possiamo ripetere. Plastica o costruttiva, fornire il materiale per la costruzione e riparazione di cellule e tessuti. È svolta da proteine, lipidi e sali minerali. Energetica, fornire l'energia per le varie funzioni del corpo. È svolta da carboidrati e grassi. Regolatrice, garantire il corretto funzionamento degli organi. È svolta da vitamine e sali minerali. Protettiva, combattere gli effetti di stress e dell'invecchiamento. È svolta da vitamine. Le proteine costituiscono il 18% del nostro corpo. Hanno funzione plastica o costruttiva, come fossero dei mattoni, per accrescere e riparare. Sono contenuti in uova, carne, pesce, latte e legumi. Gli zuccheri, sono il 6% del nostro corpo. Hanno funzione energetica, come fossero legna fine, per una rapida energia per il movimento. Si trovano in pasta, dolci, cereali, zuccheri. I grassi, costituiscono il 10% del nostro corpo. Hanno funzione energetica, come legna, sostanza di riserva. Energia per sforzi prolungati. Si trovano in olio, burro, salumi, frutta secca. Le vitamine hanno funzione regolatrice protettiva. Sono dei tipi A, B, C, D e K. Per rinforzare e mantenere si trovano in ortaggi e frutta. I sali minerali formano l'1% del nostro corpo. Hanno funzione plastica e regolatrice. Sono dei principali tipi calcio, potassio, sodio, ferro, magnesio. Per accrescere e riparare. Si trovano in uova, carne, pesce, latte e legumi. L'acqua costituisce il 60% circa del nostro corpo. Ha una funzione prevalentemente regolatrice. È la sede delle reazioni chimiche cellulari e si trova in tutti gli alimenti, oltre che la introduciamo direttamente. Piramida alimentare. Per una dieta equilibrata dobbiamo consumare quotidianamente alimenti in quantità e frequenza minore al vertice, fornendo i principi nutritivi necessari. Anche le calorie introdotte devono corrispondere a quelle consumate per un bilancio energetico in pareggio. Quindi, il fabbisogno energetico è la quantità complessiva di energia di cui abbiamo bisogno per svolgere tutte le funzioni vitali e per l'attività muscolare, misurato in chilocalorie o chilojoule. L'obiettivo è un bilancio energetico in pareggio, in cui l'energia introdotta si appare all'energia consumata. Le fasi della digestione. La digestione è l'elaborazione e assorbimento del cibo. Si svolge in tre frasi principali. La digestione. Le grandi molecole vengono scomposte in molecole più piccole, quindi attraverso bocche e denti, faringe e esofago, stomaco, intestino tenue. L'assorbimento. Le piccole molecole vengono assorbite nel sangue, intestino crasso. Infine avviene l'espulsione. Le sostanze di scarto escono attraverso l'ano sotto forma di feci. Questo fa parte della digestione, ma non dell'apparato digerente, è l'apparato escrettore. Il processo digestivo. Bocca. Trasformazione meccanica tramite denti e chimica tramite la saliva. Faringe esofago. Condotto di passaggio. Stomaco. Attraverso succo gastrico, trasforma le proteine in peptoni. Fegato. Produce la bile per emulsionare i grassi. Pancreas. Produce succo pancreatico per digerire proteine, carboidrati e lipidi. Intestino tenue. Completa la digestione con succo enterico. intestino crasso. Assorbe acqua. Sali minerali. Vitamine. Parole chiave di questa trasformazione dal cibo iniziale diventa bolo, impasto di cibo masticato e lavorato dalla saliva. Chimo, impasto denso e acido per l'azione del succo gastrico. Chilo, contiene gli alimenti scomposti in piccole molecole. I disturbi. La placca e la carie. Residui di cibo rimasti in bocca possono provocare erosioni aumentando la sensibilità dei denti, causando anche infezioni. Flora intestinale. Il nostro intestino contiene oltre un migliaio di batteri che favoriscono la sintesi di vitamine e la protezione immunitaria. Disturbi alimentari. Un disturbo nel rapporto con il cibo e il peso desiderato interferisce nella vita di una persona, con anche disturbi quali anoressia e bulimia. Malattie dell'apparato digerente. Epatite. L'epatite A è provocata da un virus trasmesso con l'ingestione di alimenti contaminati da feci infette. Ulcere e coliti. Sono infiammazioni della parete dello stomaco dovuta a una cattiva alimentazione o del colon causata da ansie. La celiachia è una malattia dell'intestino dovuta all'intolleranza al gluten, proteina di molti cereali. Digestive system. The digestive system is a series of hollow organs joined in a long twisting tube from the mouth to the anus. Inside this tube is a lining called the mucosa. In the mouth, stomach, and the small intestine, the mucosa contains tiny glands that produce juices to help the digest food. Two solid organs, the liver and the pancreas, produce digestive juices that reach the intestine through small tubes. In addition, parts of other organ systems, for instance, nerves and blood, play a major role in the digestive system. Parole chiave. Digestive system. Apparato fa bisogno energetico. Absorption. Assorbimento. Per approfondimenti potete consultare Humanitas. Dove e come mi curo? Ministero della Salute. Grazie.